Buonasera a tutti e benvenuti. È nato il reddito di inclusione, ovvero la lotta alla povertà, ovvero un reddito capace di abbattere il fenomeno della povertà che in Italia diventa sempre più pesante. Si parla di circa 1 milione e 800 mila persone in povertà assoluta o comunque di 4 milioni e 750 mila persone sulla soglia di povertà o con grandissime difficoltà in questo senso. Il reddito di inclusione in realtà è un provvedimento del governo su un piano nazionale 2018-2020 che andrebbe a prevedere la gestione di 1 miliardo e 845 milioni, ma già si dice che sono pochi, si chiedono altri miliardi per cercare di poter soddisfare l'intera categoria definita in povertà. e servirebbe in ogni caso a sollevare e quindi a dare una mano in termini economici a una quota di tra virgolette poveri, di persone in povertà con un reddito non superiore a 6 mila euro all'anno con anche un'abitazione magari di proprietà, ma con un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di proprietà non superiore a 20 mila euro, ovvero si individua una categoria e per questa categoria, che però non va a toccare perché già le associazioni criticano tutto questo dicendo sì, però un povero su quattro andrà a beneficiare del reddito di inclusione rispetto agli altri e il 62% dei poveri in percentuale su quello che è il numero attualmente ragionato in questo senso rimarrebbe escluso da questo assegno. Ci sono degli accessi prioritari per il reddito di inclusione, stiamo parlando di chi ha figli minorenni, figli disabili, di chi è in stato di gravidanza, di chi è disoccupato oltre i 50 anni e può essere compatibile questo reddito di inclusione anche con un'attività lavorativa basta che la persona che ne usufruisca non abbia già un cosiddetto ammortizzatore sociale a tutela appunto del proprio reddito. Ora, come sempre ci sono le discussioni perché ovviamente si dice il governo ha fatto un passo ma doveva farlo bene, ma doveva farlo meglio, ma doveva estendere all'intera fascia di diversi milioni di italiani considerata in povertà dando appunto l'accesso a questi redditi, a questi denari a tutti loro e non ancora a fare in questa situazione poi un ragionamento quasi ad individuare dei poveri di serie A rispetto dei poveri di serie B e quindi amplifichiamo quella che è l'utenza. Però si dice non ci sono i soldi o comunque sono stati destinati pochi soldi e quindi occorrono anche altri atteggiamenti e qui c'è l'Unione Europea e qui ci sono magari così altre possibilità economiche di avere aiuti per rendere questo reddito di inclusione utile per tutti e non soltanto per alcuni. Sta di fatto, ribadisco, che le critiche sono sempre all'orizzonte e vanno a ragionare malamente anche perché poi diventa tra virgolette la cosiddetta guerra tra poveri, cioè la guerra dove si dice ma lui li ha avuti e io no, tra cui si dice ma io sono single e quindi ho diritto a un certo tipo di reddito rispetto a chi ha famiglia e allora c'è una discriminazione oppure si dice ma come quello che sbarca con il gommone prende 35 euro al giorno moltiplicati per un mese sono circa 1000 euro, io sono italiano, ho un reddito di inclusione e ne prendo 280-300 per arrivare poi a una soglia prevista a mio favore e allora perché a lui sì e perché a noi no, discriminazioni anche da questo punto di vista ed ancora si dice ma non dateci il reddito di inclusione non fateci scannare tra di noi per capire chi possa averne diritto o non averne diritto assicurateci invece un minimo lavoro garantito visto che ci sono immobili, terreni, campi abbandonati, raccolti differenziati, eventi, feste locali, fondi tutta una serie di microattività dove con un minimo reddito possiamo magari toccare tutti quelli coloro che sono nella soglia di povertà e dare la possibilità a tutti e non soltanto a qualcuno di potervi accedere e poi ancora si va a toccare il tasto delle elezioni perché si dice però adesso sotto elezioni si fa così e quindi ci si assicura determinati voti rispetto a prima o comunque qualcun altro parla anche di una vera e propria presa in giro perché poi insomma quello che si dice adesso un domani non verrà mantenuto o verrà modificato e si potranno magari dimezzare i fondi eccetera 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 ora qualcosa si è fatto perché dal gennaio 2018 dovrebbe entrare in vigore le critiche esistono dall'altra parte, va tutto bene o va tutto male lo vogliamo considerare forse un piccolo passo come qualcosa che possa essere magari meglio di nulla in questo momento dove c'è il nulla? non è meglio un piccolo reddito a condizioni tutte da definire magari possiamo modificarle ma che almeno dia sollievo a qualcuno senza per questo creare una guerra necessariamente e poi vediamo e poi cerchiamo di trovare altri denari ma la critica gratuita così perché? e le elezioni sono state queste il motivo? non credo, non credo proprio grazie